Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! Il momento che tutti stavamo aspettando è finalmente giunto! Questi fiori saranno venuti bene oppure no? Lo scopriremo in questo video! Intanto ci tenevo a ringraziarvi tantissimo per il supporto che mi avete dato sotto l'ultimo video siete stati in tantissimi a commentare, a mettere like, quindi grazie, grazie, grazie mille! Vi lascio i link di tutti gli stampi che vi faccio vedere oggi qui sotto nell'info box dal sito di Giacreations e da Amazon.it Per quelli di Amazon vi ricordo che io prendo una piccola commissione se acquistate tramite il mio link Quindi grazie a chi lo farà! Allora, per la prima volta penso su questi schermi tireremo fuori delle creazioni perfettamente catalizzate Sì ma dello splendido sole che c'è oggi ne vogliamo parlare? Allora tesori, in realtà il laghetto che abbiamo fatto insieme io l'ho già tirato fuori Eccolo qui, non mi dispiace come è venuto se non fosse per il fatto che è isoscemo, se è capito dallo scleriamo che abbiamo fatto ultimamente e praticamente l'ho piegata al contrario Cioè questo doveva essere il sopra ma come vedete è piegata al contrario e quindi niente, ce lo teniamo così che per fortuna è venuto comunque molto carino E dicevo, perché l'ho tirato fuori? Per realizzare un'idea che mi ha dato una di voi, in realtà anche altre ragazze Arcana Grace e tante altre tesore del cervo ispirato ad Harry Potter e ho fatto questo laghetto con questo effetto che voleva essere un po' dissenatore un po' scurità che cerca di prendere il cervo però ovviamente poi si è modificato tutto cioè quando l'ho colata era molto più bello il tutto però ci sta, qualcuno sembra un dissenatore, dai Piccolo incidente, ho fatto anche il cervo, purtroppo è caduto ieri e la parte sotto non so com'è venuta però vabbè, vedremo Mo, brimstini va Ah, poi vorrei ricordare che la tesora Barbara ha espresso la sua perplessità sul risultato di questi fiori Barbara si vene buona che ma fa Allora, vediamo Mamma mia, speriamo siano semplici da tirare fuori perché Tutti questi ultimi stampi mi fanno un po' affaticare Ok, allora con calma Questo è il primo che abbiamo fatto, sì Cioè questo è proprio quello che abbiamo fatto insieme Vediamo Un parto ogni volta che devo tirare fuori le cose Oh, ma vedo già cose belle, Barbara Oh, wow Wow, che bello Bellissimo, dai, mi piace troppo Non è venuto troppo a strisce Perché muovendo si è mescolata un po' di resina Certo, l'effetto può migliorare come sempre Però non mi dispiace, dai Non mi dispiace per niente Vediamolo sul laghetto No, ma è bellissimo Che bello Ma sembra già questo però, la foglia Wow, bellissimo A mia mamma piacerà tantissimo A fine video ve lo faccio vedere con la candela dentro Mamma mia, mi piace troppo E vabbè, io avevo fatto anche questa foglia Da metterci Eccola qui Con il pigmento verde Che sarà disponibile sul sito di Gia Creations Però Vabbè, pure viene carino No Non lo so Non lo so Perché in effetti è già questo Dà l'idea della foglia Quindi mi piace così E vabbè, mi dispiace Sei inutile Sì, anche perché in realtà Vedete, perché io non li tiro mai fuori catalizzati Perché questo Se lo mettete nel bicchiere E gli fate prendere una forma Incurvata È molto molto più utilizzabile Così Meh Allora, io direi di continuare con i portacandele Vediamo come sono venuti Questo qua è quello di cui sono più curiosa Quindi lo lasciamo in ultimo Questo secondo me non è venuto bene Perché ho messo Sì ragazzi, perdonate lo smalto È stato veramente indecente Ma non ho avuto il tempo di rifare la manicure Dicevo Questo qua Vabbè, a parte tante bolle Raga, finalmente è finita quella resina infernale Finalmente Infatti qua ho usato quella della reschimica Che bello Che non puzzava né niente Dicevo Dicevo, su questo ho qualche dubbio Perché ho messo prima un giallo più scuro E poi infine un giallo più chiaro Che avevo sbagliato il pigmento Vediamo Oh 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 Wow Che bello Oh che bello Questo mi fa venire fame Sto colore è troppo Crema pasticcera Wow Bellissimo Qua è venuto sfumato proprio bello Barbara Voglio vedere Barbara che commenta sotto sto video Wow Wow Mi piace No, vabbè Mi piace troppo Oh Che bello A mia mamma Glieli do Tutti e tre Così poi sceglie lei Quello da mettere qua sopra No Cioè Raga Bellissimo Bellissimissimo Sinceramente mi piace più questo giallo per ora Sì Veramente Una cosa molto fine Mi piace Comunque sono una splendida idea Regalo sti cosi Cioè Ovviamente belli Soprattutto Mi piace da morire Sta cosa che Per le creazioni resina Si stanno facendo stampi Ecco con cose per la casa Anche Gea sta facendo i vassoietti Suo tatasche Cioè Sono proprio belli Wow Una malanzana No Una carciofola Lo dovevo fare bene Wow Quindi mi puoi fare la carciofola Allora C'è il suo perché di fiore magico Ma proprio che viola E non l'ho fatto blu E non l'abbiamo fatto sfumare Qualcuno mi sa spiegare questa cosa Vabbè Allora Questo però non vale Nel Nel giudicare La riuscita Perché questo qua Era lo scartino Della situazione E già è tanto Che è venuto Abbastanza decente Io Non lo so Sto colore Sarà Il colore Con queste foglie E mon Mi pare sempre Una carciofola Arrestato Comunque Vabbè Proviamo anche Questo Qua sopra E vedete Sta più di Un sogno Di una notte Di mezz'istate Questo Fa già Super classico E questo Sì Va bene Il classico Ma voglio essere Più glamour Vabbè Comunque dai Tesori È andata bene Cioè per me È andata benissimo Questo è troppo bello Allora Adesso Vediamo Tutte le altre Cosine Che ho creato Ho utilizzato Questo nuovo stampo Di Gea Sinceramente È stata una Cioè comunque Quella resina Guarda Ma non sembra Proprio Quando uno Sputa a te È proprio brutto L'effetto Di stare resina Comunque Dicevo Ho fatto Una prova Così molto A cavolo Perché penso Di ridipingerla Poi questa Pergamena Maggio Mise l'adesivo Contrario No ma io Non ce la posso Mai fare No ma mica Ce la posso fare Ho messo L'adesivo Al contrario Poi abbiamo Gli scacchi Tesori Che bello Quando ho visto Questa stampa Su Amazon Ho detto Oh mio dio Perché Mio cognato È un giocatore Di scacchi Anche molto bravo E adesso Voglio fargli Un set Di scacchi Però Quelli che si Illuminano Insomma Voglio fare Tutti i particolari Per adesso Questi li ho utilizzati Per fare Esempel Dei Dei pigmenti Di Gea Vedete Così Posso farle Le foto Da mettere Sul sito Perché penso Abbiano una forma Perfetta Per far Risaltare Un pigmento E quindi Li ho fatti Con questi Anche un po' Per vedere La qualità Dello stampo Che vabbè Come vedete È lucidissimo Che bello Questo Lo vediamo lì In anteprima Questa è la resa Dei pigmenti Perché Questo è l'effetto Spenellato Nello stampo Qua invece Li ho fatti Con i pigmenti Nella resina Che bella La luce di oggi È troppo bella La luce di oggi Ok Poi c'è Questo Che dal vivo Allora Dalla videocamera Sembra nero Ma dal vivo È proprio Blu notte Infatti Ditemi se vi piace L'idea Gea mi ha chiesto Aiuto Per dare il nome A questi pigmenti Visto che sono Quasi tutti Sulle tonalità Della notte Cioè che mi fanno Venire in mente Un bosco Di notte Ho pensato A una notte Di mezz'estate E di dare Appunto A questi pigmenti I nomi Dei personaggi Principali Quindi Oberon Titania E le due coppie Ecco guardate Infatti Oberon Dovrebbe essere Lui Sì questo verde Vorrei chiamarlo Oberon Poi Quest'altro verde Però Un po' più Che vira un po' più Nel blu Titania Comunque vedete Non è questo il caso Perché i pigmenti Non sono uguali Ecco questo È il pigmento Messo nella resina Vorrei farvelo vedere Più da vicino Ecco qua Comunque Se colate la resina Uguale Poi basta Incollare Le due parti Con Altra resina Ed ottenete Il vostro set Di scacchi E' stupendo O comunque Secondo me è stupendo Infatti io ho colato Anche Questi altri Pezzi Perché secondo me Sono molto carini Anche come Ciondoli Della Madonna Questo blu Comunque è spettacolo Qui ho mixato I pigmenti Anche qui Oh madonna mia Questo blu Comunque Ecco vedete Qui ho utilizzato Le due tonalità di blu Quello più chiaro E quello più scuro E' bellissimo Poi ho apprezzato Tantissimo Che appunto Il set fosse Da due Stampi Altrimenti sarebbe stato Complicato Ottenere lo stesso Identico colore Di resina Super carini Belli Mi piacciono Allora poi Prima di vedere L'esperimento fallito Del mio patronus O patronum Oddio O lapsus Ho colato Anche questi Che come sapete Non sta un po' Di cui mi sono Innamorata Ho provato a metterci I fiori secchi E ovviamente A farne un altro Con le pietruzze Vediamo prima Questo con le pietruzze Eccolo qui E fra l'altro Questo dovrebbe Illuminarsi Al buio Vediamo Questo con La farfalla Oh wow Che bello Bellissimo Mi piace Non mi aspettavo Così bello Sembra che la farfalla Sia 3D Cioè che venga fuori Bello Mi piace Vediamo questo Col fiore Qui purtroppo Non avevo Abbastanza resina Infatti penso che Dovrò colare Un altro strato Però anche questo Non mi dispiace E poi andrò A rifinire Con l'oro Ai bordi Vediamo questo Eh Dai Anche questo Non è venuto male Si vedono i bordi Delineati Semplicemente perché Non c'è abbastanza resina Ma con un'altra Colata Poi non si vedranno più E sinceramente Non mi dispiace Per niente Inglobare i fiori In questo stampo Che vi ricordo Trovate da Gea Creations Ok E adesso Vediamo Se il nostro Cervo Magico È venuto Allora prima di tutto Togliamo questo Per vedere se Casomai Il retro È venuto meglio Beh Ha il suo perché Il retro Sinceramente Sul retro Sembra appunto Che il nero Sia sott'acqua Quindi bene Così vediamo Cos'è successo A sto povero Cervo E se lo possiamo Salvare Perché io ho provato A rimettere la resina Dentro Ma era già quasi Catalizzata Però vedete Che dà Dà un po' L'effetto Della scia Del patronum Per questo Non l'ho Non l'ho Buttato Poi ho messo Un casino di tempo Ad ottenere Sto colore Che si illuminasse Ecco Che è uscito Pure senza Narecchio Aversare Ecchio Beh Quella Gliela Possiamo Rifare Però Vi ripeto Non mi dispiace Perché Trattandosi Del Del Eh Eh Certo Ovvio Ovviamente Potremmo Incollarlo Poi Ho fatto Pure le corna Cioè Guardate Quanto Mi sono Impegnata Io Che le ho fatte Anche che si Sfumavano Cioè Io non vedo L'ora di vedere Il tutto Montato E di vedere Spazzata Corno Cervo Annaggio Sto Cervo Comunque Sfortunate Sfortunatello Ok Allora Tesori Eccolo Qui L'ho Incollato E ho dovuto Mettere Qualche Sassolino Sul retro Per compensare Diciamo La parte Dove non c'era La resina Però Sinceramente A me Questa forma Che ha sotto Non dispiace Perché mi ricorda Tanto Il patronum Bene Ma adesso Dobbiamo Vederlo Al buio Eccolo Qua Wow Mi piace Mi piace Molto Il pigmento Ha fatto Il suo dovere Dai Non è male E come Cervo Di Harry Potter Ci sta Voi che dite Non mi piace Ho l'occhio Suape Lo lascio ad asciugare Col fiore dietro Adesso Andiamo A provare Questa No vabbè L'adoro L'adoro Tantissimo E sono sicura Che mia mamma Impazzirà Per questa candela È bellissima Tra l'altro Ho pure La Yankee Candle Perfetta È proprio Bella 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 Ho anche rifinito Questi Con il liquid Gold Della Vallejo E mi piacciono Da Morire Bene tesori Il mio video Finisce qui Spero tanto Vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Ovviamente Con un commentino Qui sotto Qual è stata La vostra creazione Preferita Grazie mille Per sopportarmi Sempre Io vi mando Un grandissimo Abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao